Sì, sì, limone e menta. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. 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 Ed ecco la mia macedonia di frutta con banane equesolidali, credo sudamericane, uva bianca e nera e rossa, bianca e rossa siciliana, mele e yogurt della valtellina con confettura di pesche. Partiamo dalle banane, queste sono le banane, qua c'è l'uva, qua c'è l'uva, qua lo yogurt, qua una delle mele, spero che vi possa piacere, alla prossima.